Oltre otto ore di discussione hanno caratterizzato il primo incontro del Comitato di sorveglianza del nuovo piano di sviluppo rurale della Regione Puglia tenutosi a Bari presso Villa Romanazzi mercoledì 16 marzo. Un incontro tra le istituzioni Regione Puglia, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e associazioni di categoria per analizzare i criteri di aggiudicazione dei bandi che saranno pubblicati nell'ambito della programmazione 2014-2020 le candidature di proposte progettuali e la metodologia per l'attuazione dei fondi del programma ai soggetti operanti sul territorio. Era una riunione quella di oggi nella quale ovviamente c'erano ancora delle cose da dipanare con la Commissione europea, con il partenariato che interviene qui nel Comitato di sorveglianza, credo che il lavoro sia stato molto proficuo. Un tavolo di confronto che attraverso un approccio partecipativo ha permesso di analizzare tutti i punti del programma basato sulle linee guida dettate dalla Commissione europea. Tante le novità a partire da priorità e focus area che hanno sostituito gli assi della vecchia programmazione e l'introduzione opzionale di sottoprogrammi tematici per rispondere a specifici bisogni. Siamo riusciti ad individuare pressoché per tutte le misure dei criteri condivisi, rimangono alcune limature da doversi effettuare però il grosso del lavoro è stato fatto e questo ci mette in condizione di dire che a breve già inizieremo a mettere in campo le prime misure soprattutto quelle rivolte alle cosiddette misure a superficie quindi la parte che aveva una serie di incombenze e la parte per i giovani e la parte invece per le aziende che vogliono fare degli investimenti. Associazionismo e cooperazione, sviluppo locale e ambiente, alcune delle parole chiave che accompagneranno gli addetti ai lavori nel percorso di sviluppo rurale.